Buongiorno cari amici dal vostro Mr. Sunny Bus. In questo video vi parlo del pick up double pick up che è un pick up piezoelettrico realizzato artigianalmente da Pino Castagnaro in Italia. Pino Castagnaro è un ingegnere elettronico, contrabassista, che da qualche anno realizza a mano questi pick up. Ecco che vedete il double pick up di Pino Castagnaro installato sul mio contrabbasso sotto al ponte dal lato del Mi con la sua piastrina di rame e con il suo attacco per il jack che è un attacco di alta qualità con il blocco del cavo jack. Vi ho già parlato in un altro video di questo pick up, solo che in quel video vi facevo sentire il suono passando attraverso il Gallio & Kruger 200 MB. In questo video invece vi faccio sentire il suono passando attraverso questo, ovvero il Polyton, un vecchio Polyton, il classico Polyton Mini Brut terzo per basso. In questo caso, anche in questo caso, l'equalizzatore è assolutamente flat, prendo l'uscita, che è un'uscita jack sbilanciata e entro direttamente nel registratore. E quindi sentirete il suono sia appizzicato che con l'arco del double pick up passando attraverso il Polyton. In descrizione vi lascio il link del video precedente dove passavo attraverso il Gallio & Kruger e potrete notare, confrontando i due video, che il suono è diverso. In verità il Gallio & Kruger è molto più scuro del Polyton. Il Polyton schiarisce leggermente il suono di questo pick up. Sempre in descrizione trovate anche il link per raggiungere Pino Castagnaro nel caso siate interessati al suo pick up. Dal vostro Mr. Sanibas un buon ascolto e alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!